Ciao ragazze, eccoci qui per il nostro primo video in collaborazione, dopo un annetto ci siamo qui, dai ce l'abbiamo fatta, qua nella nostra bellissima Torino, e siamo a Torino anche per un pare, no guarda abbiamo rifatto il video qualche volta, adesso lo sfondo è perfetto, non ci manco più il tubo, no perché qua abbiamo un bellissimo tubo che mi faccio vediamo se si inquadra, eccolo qua, no c'è la nostra ragazza bellissima, siamo a Dubai in centro Torino, fa freddo, io freddo, sì abbastanza, e abbiamo provato un po' di location, però questa dai non sembra che siamo in metuburio, più o meno, togliendo il tubo, no dai potrebbe sembrare carino, che dire, speriamo che non scende nessuno perché se qualcuno ci vede in questo momento dicevo che stavolano col muro, però questo è un po' di ricordiamo perché ho già pensato di fare qualche video camminando, tipo un vlog, sì però ho l'anzo di queste persone che abbiamo una scala qua praticamente, però abbiamo pensato di salutarvi così e raccontarvi dove siamo andate oggi, indovinate, secondo me avete già indovinato, profumeria dai, dille, elencale tutte dai, la prima è stata, vabbè, quella dove abbiamo trovato le palette della MUA, che si chiama Easy Beauty, ora stiamo passando qua, in quel senso? siamo andate da Easy Beauty e abbiamo trovato la MUA, però quant'è che presta? sette euro e cosi, otto, sette, otto euro, palette vecchia, che era vecchia? lei ha messo anche un fondotinta che è l'oreal, il magic qualcosa, quindi abbiamo deciso di non acquistare, nulla, purtroppo no, poi ci hanno, non ci hanno proprio più, non so, voglio dire la parola ragazzi, su dirlo, tanto nel mio canale tutto è lecito, non ci hanno considerato, diciamo così, poi siamo andate da Sephora, da Sephora, coltellino ci abbiamo visto tante cose, troppe, troppe, grazie veramente, poi da Douglas, Douglas, Kiko, che forse adesso ci torniamo perché guardate la sottina, non so se si vede, vediamo, sì, quello da 1,90€, abbiamo preso il caffè, un buonissimo caffè, col contorno di acqua, sì, con la tazza sporca, è dura, io mi sono dovuto rimettere, 1,90€ allo Smart Lipstick, ora passo, quindi sarà il nostro acquisto, diciamo, un rossetto in due, no, è bello, mi piace, poi il colore mi piace, gli sta bene, e io invece no, un rossetto della Loria che sto terminando, però non è nel progetto, progetto, in base al progetto vai, e non sei progetto, dai, dimmi un po' il tuo progetto come va, a me va discretamente bene, non so se guarderete a guardare, sì, no, anche dai, vediamo una telecamera, vabbè, sta andando discretamente bene, tanto è vero che a breve vedrete i progressi, però non ve li dico già adesso, non dico nulla, perché il 15, 15 ci sarà la nostra puntata, cioè ragazzi, io non faccio mai il video in questo modo, oggi mi sto dando la pazza gioia, saluta Anastasia che ti ha salutato prima, ah, un bacione ad Anastasia, la ringrazio, e no, veramente, ogni tanto, io non saluto mai tante ragazze, ogni tanto qualcuno mi scrive anche di salutare, a me una ragazza me l'ha chiesto, però non mi ha mai commentato, quindi lo sapete, Anastasia mi ha commentato tantissime volte dei consigli che mi ha dato, sì, anche a me, e mi dicevo sempre, ogni video me lo devo scrivere, me lo devo scrivere, però ce l'ho fatta, qualche video fa l'ho ringraziata, da degli altri consigli a proposito, sì, anche a me me l'ha tratti molti, e quindi il tuo smattimento? Il mio smattimento procede, un poco meno dello scorso, ho finito delle cosine, ma non in maniera, non sono efficace, diciamo che tutti quegli ombretti che dovevo finire, fine, palettine, abbiamo troppa roba, oggi ci siamo veramente tenute. Io sono andata avanti con i tuoi fondotinta, non so se l'avevi vista, che ho inserito dei fondotinta, devo guardare avanti i tuoi fondotinta, sono quasi alla fine, a meno che i tuoi fondotinta, mi sa, è uno della Kiko e uno della Maybelline, mi sembra, uno della Maybelline. Perchè poi io, parlando anche di video, io tante cose, io non mi ricordo neanche, a volte, quello che ho fatto prima, magari se ho aggiunto, perchè a volte io... Pure io, anche perché me li guardo sempre. Io non mi tengo i prodotti tutti assieme, mi tengo magari delle cose, tipo adesso ho messo, aggiungerò dei gloss, ecco dai, vi do questa, quest'anteprima. E quindi sono dei gloss che perdono, devo tenerli, devo tenerli, e qui io non li tengo nella mia pochette dello sommattimento, però dai, sta procedendo. Quindi troveremo anche quelli. Sì, no, ecco anche io e fondotinta, stanno andando avanti. Io due fondotinta, poi va bene. C'è una cosa che lei sa, che però... No, diciamo, anche lei gli ha detto che ho finito. Dovete aspettare il 15, dai, il 15, scoprirete. Che poi siamo arrivati, mi pare, alla puntata, che chi la chiamo la puntata? No, io non la so perché non le segno. 8-9, mi pare la 9, cioè, venga, sono 9 mesi. 9 mesi. Che già? 9 mesi. Che già comunque qualche mese prima parlavamo di queste cose. Che poi prima di questa qua l'abbiamo fatto un'altra. Qualcosa non si è diventata. Sì, non ti scordare di me, una roba del genere, sì. E da lì siamo partiti con questo progetto. A me sta aiutando. Sì, sì, anche a me, vero. Anche se ho tanta roba. Un giorno porterò. Il punto è che non lo finiremo mai, perché il tempo che finiremo con le cose, ne aggiungerò molte. Adesso io finirò dello 7, ma ora mi sono andata a comprare questo. E poi ho dato anche i complimenti sulla sua base. Perché da qua, vabbè, non so come si vede, perché è una luce di mezza che c'è qua dentro. Si vedrà tutto scuro. Apparerà il bispo sulla mia parola. Però è veramente luminosa. E quindi, no, mi piace. Devo dire che mi piace. Poi io normalmente quando vedo un trucco per piacermi veramente tanto, deve esserci qualcosa che non esplisce. E vabbè, al solito io devo passare una T. Cioè, io sto quasi fermando. Certo, c'erano le mani e... No, io ho fatto tipo una tinta della Makeup Revolution, non lo so perché. Quando l'avevo avuto, avevo detto, ma... Hai mai avuto il caffè e hai tutto ancora lì che sta bene. E ho anche fumato. Due sigarette. In questo... C'è una adesso, poco fa, e una... Quanto, due ore di te fa, forse. Sì. No, io ho vista solo questa. Quella, l'altra... Sì, l'avevo fumata al Capolinea. E ci abbiamo messo un bel po'. Eh, però la luce è veramente... No, la prima volta che faccio un video... No, ragazzi, io sono contentissima che ci siamo viste. Cioè, penso che ci stiamo provando da... Sì. Sarà da quando? 4-5 mesi tutti. Forse anche due secondi. Purtroppo... Eh sì, forse... Perché... Già volevamo vederci quando io lavoravo in fabbrica. E si parla di giugno o luglio. E quindi... No, veramente. Anche poi, ora li facciamo quasi tutti i mesi i video. Prima facevamo un mese e mezzo, forse. Dello amaltimento? Proprio meno una volta a un mese. Non so. Io so che lo scorso ci abbiamo messo più tempo. Sì, perché, purtroppo, come io dico sempre, io vivendo a Milano e non ho internet a Milano. Questa cosa è bruttissima. Infatti, sto pensando di mettermi qualcosa. Anche con i video. Ho il guarda più tardi, guarda dopo. Sì, guarda più tardi. Ci saranno tutti... Non dico 100 o 200 video, ma... Quasi. Ci sono tutti. Infatti, mi scusi sempre. Io devo vedere ancora un suo video. Pensate, però... Perché io mi li devo gustare bene. Io devo guardarmi tutti insieme... Tutto. Sul letto. Perché sennò io lo vedo metà oggi. Metà domani... Io già domani non mi ricordo cosa abbiamo fatto. Io invece no. Ho il vizio che all'inizio del video, appena voglio già... Cioè, voglio commentare qualcosa, lo commento subito. Senza finire il video. Infatti ti faccio tipo 3 o 4 commenti. A volte, a volte poi... Per paura di dimenticare qualcosa. Esatto. È importante. Magari anche... Magari non consiglio. Ma anche solo il mio punto di vista su quel prodotto. Scrivo subito. E poi... A volte me lo modifico. A volte scrivo. E appare tipo una caterba di miei commenti. Però... Però dai. Dovete solo avere pazienza su questa cosa. Infatti... Lei pubblica molto tipo un video di me. Si pubblica quasi sempre. Io... Qualcosa... Adesso ho imparato. A caricarli in privato. E... Piano piano. Infatti... A volte vedete dei video dove sono vestiti in un modo. Altri video che magari... Che poi non li pubblico insieme. E sembra che... Se per un mese mi vesto sempre con la stessa maglia. Però magari le faccio 5 o 6. E poi... Parliamo troppo. Non possiamo tanto urlare perché... Si. Ci prendono per pazzi. Quindi... Io mi ho fatto una signala. Ci ho guardato. E io ero lì che... Infatti vedevo di più ora. Mi sembro... Sembra una persona seria. Sì. Perché abbiamo praticamente sistemato il telefono in una specie di... Sembra un buco sul muro. Sì. Una cosa di queste cose che abbiamo dietro. È carinissima eh. E la gente che passa ci vede... Che parliamo col muro. Perché lì abbiamo provato a farlo. Però vedete questa luce che punta così... E prendete finiva qua. Sulla rosa qua. Lei era lì. Io avevo questa luce qua immenso che mi partiva e... E mi tagliava. Però va sicuro che fa freddo. Perché... Non lo so se si vede. Io divento viola alle mani. Però no. Non si vede. E poi mi vengono tutti i trattini rossi. Poi vedrete i nostri... Questi non si vedono più. Che cosa? Ah quelli... Sbocciato. L'abbiamo sbocciato. L'abbiamo sbocciato. Solo sbocciato perché non abbiamo provato niente purtroppo. Però abbiamo capito che è una palettina... Abbiamo capito. Abbiamo constatato la palettina della... La Peach. Sì. Questa. Le... Vabbè... Impressioni così. Lei ha provato qualche colore? Che non scrive... Cioè... Scrivevano pochissimo praticamente. Tranne il marrone... E... Forse il bianco... Sì... Il panna shimmer... Il cavolo... È arreglati però... Sente di caso. Questa cosa non è... Cioè... Non prichiamo poi suggeranto. Però perchè tutte parlano molto bene. Poi ho guardato le Naked e io voglio la tenda e ce l'ho. Sì, senza un ombretto perché uno si è suicidato. A me si sta, ecco. Io nel progetto, ecco, questa cosa posso dirla. Non sei suicidato, perché ce n'è ancora, però il mio blush... Ho chiudo la paletta, mi è caduta, ho provato a ricompattare un pezzo, ma un pezzo di blush è andato via. Ma tu come li compatti? Con l'alcol? No, li schiaccio col dito. Come ho fatto io con l'ombretto della Naked. Poi prendo una salviettina umida e la schiaccio sopra e poi ci finiscono. Non mi stavo grattando l'orecchio. Vabbè, tanto io mi gratto sempre, non so come mai. Ho sempre visto perché c'ho le zecche. No, a volte faccio col dì, ma a volte sono i capelli, perché sono sempre da gestare i miei capelli. Ecco, io uso il video per gestarmi i capelli. Vabbè, è sempre una cosa utile. No, vabbè, adesso non so quanti minuti siamo. 11 e 19 secondi. Dai, questo video sarà simpatico. 22. Fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video, perché è il primo che facciamo. Abbiamo deciso, penso, 12 minuti fa di farlo, ecco. Quindi inizialmente non sapevamo neanche bene cosa dire, cosa fare. Non eravamo pronti a fare questo video. Se farlo in questa location. In questa location, però dai. Magari, magari, la latte di lavandria del mio ribotto. Copiamolo. Vabbè. A me piace sempre far vedere questo sfondo, no? Io no, visto che ho notato che nei miei video ho i cassetti aperti, in alcuni ci sono delle mutande lì fuori, il letto di sfatto. Mi faccio mancare adesso. I biscotti di Tarca. Infatti prima parlava, ecco, biscotti sì. E lì ci sono. Perché ho provato una volta a cercare la marca, perché ogni tanto le voglio prendere al mio piccolo giuggettino che saluto. non è il mio. E il canale è mio fidanzato, ma io l'adoro e l'adoro a me. Penso che siamo fatti l'una per l'altra, però... Vabbè, intanto li facciamo soffermi. Eh, magari potremmo fare una specie di tag la prossima volta, però dobbiamo solo spiare un po' su YouTube che tag fare. O fate voi delle domande e noi le prendiamo, rispondiamo. Potremmo fare anche altri video proprio insieme e così, quindi ci vedrai molte volte. Faremo magari dei video dove ci organizziamo, o magari farlo... Io vedo anche tanto quei video tipo assaggi in diretta, però... Sì, è vero. Io vi dico, ragazzi, gli assaggi in diretta farlo delle facce che... Io non ho mai provato cose strane, però non sarebbe male. Vomitiamo in diretta. Vedo degli oreo particolari, tipo anche patatine, mossi strani, però... Cioè, commentate, diteci che... Diciamo... È fattibile. È fattibile. Se vi piace, se... Qua io sto congelando, poi le mie labbra stanno viola, non per il rossetto, ma perché ho freddo. E niente, che dici? Salute. Dai, falo chiama. Vi ringraziamo per aver visto questo video, come sempre. E... Niente. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.